Ho scoperto un sacco di cose della mia personalità, un sacco di cose di tutto quello che io ho vissuto, perché scriverlo e comunque assaporarlo nel dettaglio, momento per momento, ti fa analizzare cose e ti fa vedere cose che magari negli anni ti hai riperso. Quindi è stato ovviamente il mio rapporto con la scrittura e la lettura è cambiato, perché lo vedo adesso sotto un altro punto di vista, ovviamente, perché è stata una cosa prettamente soggettiva quella che ho fatto. Però è stato proprio un... anzi, mi ha aiutata tanto a veramente tirar fuori tante cose che avevo dentro e che non lo sapevo di averle, proprio... che derivano proprio da questo mio momento di vita che ho passato. Quindi sì, è stato assolutamente super mega particolare come esperienza. In realtà sono stata un po' diminuti a guardarlo. Nella mia mente ripercorrevo tutta la mia vita, tutto quello che mi ha portato poi passo dopo passo a fare questa cosa, a scrivere questo libro, no? Sai come per dire, sai quando ti fermi di fronte alle cose e ti dici mamma mia quante cose sono cambiate, mamma mia quante cose ho passato, quante ne ho superate, quante mi hanno portato a questa cosa meravigliosa comunque, no? E anche un po' il riscatto personale nei confronti di tante cose. Quindi c'è stato tutto un miscuglio per dieci minuti in quarto d'ora, non ho capito bene, però ero super emozionata, questo sicuro. Però c'è stato proprio un altro viaggio mentale abbastanza importante. Sì, sai, dal momento che mi è arrivato il libro ho fatto un rewind, cioè sono andata indietro di come è iniziato tutto a ora. Sicuramente allora i primi capitoli sono quelli più difficili. Poi io ho un po' di difficoltà a sezionarli in capitoli ancora, perché comunque l'ho scritto tutto in chef. Anche quando lo sono andato a rileggere ho riletto tutto così, quindi è stato un po', insomma, ovviamente un vortice di cose che mi ha completamente sommetto. Niente, io fondamentalmente i primi capitoli sono quelli un pochino più tosti, quindi un po' più, che ci ho messo un po' anche di tempo per leggerli, perché mi c'è voluto un po' di tempo, perché è stata proprio la parte più difficile comunque della mia vita. Poi ovviamente i capitoli che mi hanno dato più gioia e più soddisfazione nel scriverli sono stati ovviamente quelli che parlano del mio riscatto personale, quindi di tutto quello che poi di bello è arrivato nella mia vita. E anche nel mezzo ci sono, insomma, un po' di frasi, un po' di parti dove comunque sottolineo molto il mio carattere e come ho preso di petto tutto quanto, quindi anche lì comunque mi rivedo, cioè nel senso, sì, trovo molta soddisfazione perché poi guardandolo dall'esterno, se prima lo sapevo, oggi è ancora di più. Nel senso penso che sono stata brava nonostante tutto, insomma. Non è che prima non me lo ero, non me lo sono detta ovviamente, però è sempre stata la mia vita, quindi non dico che... Cioè vedevo che non era normale rispetto alle altre persone, però non ho capito bene fino ad oggi, confrontandomi soprattutto con le persone che mi scrivono, che mi parlano. Io noto tanta difficoltà nelle persone a fare quello che io ho fatto con naturalezza perché era il mio carattere, quello di affrontarlo con una estrema forza e determinazione e anche maturità, anche quando non avevo ancora l'età giusta. E non è una cosa scontata e io la davo per scontata, quindi ad oggi riesco a dirmi brava. Alla fine tutto quello che mi ha dato mi ha resa quella che sono, no? Quindi ad oggi, se magari prima quando ero più piccolina dicevo ma quanto avrei voluto una vita normale senza tutto questo, ad oggi mi sento così tranquilla a potersi dire a me va bene la mia vita nonostante questo, anzi sono anche un po' gelosa ormai, capito? perché il mio problema è la mia situazione ed è quello che mi ha arricchita tanto negli anni perché è stata la causa delle mie domande e del fatto che io poi ho alzato il culo, scusa il termine, per trovarmi le risposte. E forse senza questo non mi sarei mai fatta tante domande, non mi sarei mai mossa così tanto, non sarei cresciuta così tanto e non sarei la persona di oggi. Quindi sono fiera di me stessa a prescindere da come andranno le cose nella mia vita. quindi va bene, cioè sono contenta comunque. Siamo amici, siamo in buonissimi rapporti. Certo, poi è un'impostazione mentale anche questa, perché poi ovviamente continuo a darmi dei limiti e tutto il resto. Però la mia mente ci ha messo talmente tanto per allenarla, vedere tutto quanto in maniera positiva, che ad oggi ci sono riuscita, posso dire di esserci riuscita. Quindi automaticamente magari non lo è, ok? Ma la mia mente riconosce che magari mi ha dato molto di più di quello che mi ha tolto. Quindi va bene così. Sicuramente mia mamma ha fatto un ottimo lavoro con me, perché la mia più grande forza è sempre stata lei, soprattutto per tutti i consigli che mi ha saputo dare da una situazione che anche lei aveva vissuto precedentemente. Però siamo cresciute tanto insieme in questo periodo, perché ci siamo analizzate insieme, perché non si finisce mai di imparare da se stessi, anche da un passato, da un trascorso, di una situazione molto simile. Sono sicura che un domani saprò dare molte più risposte di quante non me ne abbia date mia mamma al tempo. Per una questione di cose, vedi, lei non ha fatto un libro, no? Questo a me mi ha portata a capire tante cose, tantissime in più. E anche a lei l'ha fatta crescere comunque sotto questo punto di vista. Quindi, e comunque tante volte è anche un po' carattere, no? È difficile dare una risposta alla propria figlia, al proprio figlio, soprattutto quando ti guarda e ti diceva, ma perché a me, mamma, è successo questo? E io mi ricordo bene la faccia di mia mamma quando gli facevo questa domanda, che rimaneva un po', no? Impaurita, non sapeva come rispondermi e non sapeva... E era difficilissimo per lei, no? Tant'è vero che magari a volte, no? Si inghiuzzava così, no? Ci vuole anche coraggio a fare questo, tanto. A rispondere a una figlia ci vuole comunque coraggio, tantissimo. E questo libro è nato proprio perché se qualora un domani mi dovesse mancare il coraggio, avrò già messo tutto per iscritto quando avevo sangue freddo e mente lucida. Quindi magari non sarò brava io, perché sono sicura che tante volte mamma per l'emozione non sia riuscita a esprimere come voleva, nelle cose, nelle risposte che mi aspettavo. e spero che questo possa essere molto di aiuto per una mia matura bambina. Poi se viene maschio, ciccia. Allora, lo stanno ancora leggendo perché pure per loro è un po' tosta come cosa, perché anche loro si rivedono tutta la loro vita messa per iscritto, no? Però, insomma, appena è arrivato a casa, so che mamma, la prima cosa che ha letto è stata la lettera. Mi chiamo da dopo che, insomma, era molto emozionata e mi diceva che papà pure aveva letto i primi due capitoli. Poi si era dovuto fermare perché è venuto là, mi ha detto, è venuto in cucina con due occhi gonfi, pieni di lacrimoni. Si è emozionato tanto, quindi... No, ovviamente, anche per loro. Però è una bella... Cioè, li vedo molto soddisfatti di me. Diciamo fieri, no? E io per il mio carattere sono sempre stata un po'... Cioè, ho sempre avuto un carattere un po' da spirito ribelle, uno spirito libero, quindi... Avevo... Ho sempre avuto la paura di deluderli e vederli oggi invece così soddisfatti di me mi riempie tanto come persona. Sempre ti porta a fondo, eh? Cioè, se non te la levi, ogni situazione, se non te la levi a un certo punto, e questo non significa che è semplice, eh? Sia chiaro. Cioè, io ci ho messo anni. Cioè, io parlo così, ma dopo anni di cose mentali. Ok? Libri letti che mi hanno aiutata, che mi hanno... Insomma, c'è voluto. Però ad oggi sto meglio senza tutti quei macini, capito? Riesco a vivermi la vita meglio. Ovviamente, perché se lo hai, cioè, vai a fondo e basta, no? Ti disperi, stai male, stai peggio di come staresti, capito? Sì, stai peggio di come staresti, capito? Sì, stai peggio di come staresti, capito?